A mettere in pericolo la nostra salute c'è poi il moltiplicarsi dell'offerta di medicinali fasulli su internet. Lo dice la Food and Drug Administration, l'agenzia americana che si occupa del controllo dei farmaci. L'ultimo caso è quello di presunti rimedi antitumorali. Ce ne parla Anna Frangione. Alchimie naturali composti derivati dalla cannabis capaci di sconfiggere le cellule tumorali, nessun effetto psicoattivo, solo benefici. Sul web cresce l'offerta di finti antidoti e terapie presentate come efficaci. Lo denuncia la Food and Drug Administration, l'agenzia statunitense che si occupa di regolamentare gli alimenti e i farmaci, che ha individuato e richiamato quattro aziende che vendono falsi rimedi contro il cancro sui loro siti. Gocce e pillole anche pomate. L'inganno consiste nell'affiancare la descrizione delle accertate proprietà terapeutiche della cannabis, nelle cure palliative, l'affermazione che farmaci a base di cannabinoidi possano bloccare la crescita dei tumori e combattere la malattia. La cannabis non è un farmaco antitumorale, non ha nessuna attività contro il tumore, quindi non può essere utilizzato come farmaco antitumorale. I falsi trattamenti anticancro non sono un fenomeno nuovo. Il web però ne amplifica la diffusione a livello globale, così come di molti altri presunti rimedi per le più disparate patologie. Il consiglio proprio che posso dare a tutti i pazienti e a tutti i cittadini, in caso si tratti di avere delle informazioni su malattie così importanti, di rivolgersi ai siti ufficiali delle grandi istituzioni, dei grandi istituti contro il cancro del Ministero della Salute, ma mai rivolgersi a siti che non siano in qualche modo accreditati. Grazie. Grazie.